Ciao a tutti, lui è Luì, è lei Sofì e insieme siamo in me contro te! Nonché capi squadra, io della gialla e lui della rossa del Disney Challenge Show! Purtroppo ha avvento di nuovo la squadra dei gialli! Wow, che meraviglia! Quel trofeo è nostro! Per questa settimana! Ok, ok, vedremo! Ma adesso nuova settimana, nuovi concorrenti, che vuol dire anche nuove divertentissime challenge! Tra cui, una che penso sia la mia preferita in assoluto! Assistente, fai vedere il marchigegno! È questo! Ok, fai vedere come si usa! Ecco voi, la Do You Understand Challenge! Dai, racconta che altre sfide ci sono la prossima settimana! E questa sarà la Jane's Challenge! La Jane's Challenge! La Jane's Challenge! Dance! Dance! Dance Challenge! Ah, la sì, la Dance Challenge! Sì, sì, è così! La Senza Senzi Challenge! La Senza Denti Challenge! Senza Senzi! 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 Sì! Senzi! La Senza Senzi Challenge! Ecco! E tantissime altre challenge ancora! Sarà una settimana scoppiettante! E se vi siete persi qualche challenge di questa settimana, mi raccomando, non perdetevi l'episodio speciale di oggi alle 20.20 con il meglio del Disney Challenge Show! Ovviamente solo sul Disney Channel! Ciao! Prova a dire Disney Challenge Show con questo affare! Vai, vai, vai! Disney Challenge Show! Nooo! 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 Grazie a tutti.